Musica Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Tips and Easter Egg Oggi siamo qua su una collina del Gran Senora Desert Guardate in questo punto preciso della mappa Per andare a prendere un'auto o un veicolo Che comunque non si trova normalmente per le strade Infatti tramite questa collina faremo irruzione dentro al penitenziario Ora io l'ho fatto con un taxi perché mi è restato molto più semplice E una volta seguito questo percorso come vi sto facendo vedere Andrete all'interno del penitenziario dove ci sono gli autobus Ce ne sono due in teoria Però io prima ne ho rubato un altro ma non stavo registrando perché sono un coglione Una volta fuggiti dal penitenziario ragazzi Cosa che non sarà assolutamente difficile ve lo assicuro Ora non badate al fatto che mi avevano bucato una ruota Però prima come vi ho detto ci ero già riuscito ma non stavo registrando ed è molto semplice Una volta che vi sarete allontanati abbastanza infatti le stelle se ne andranno E l'autobus sarà definitivamente vostro Potete farci quello che volete Anche ammazzare tutte le persone assistente al mondo Cosa faccio sempre Ma a parte questo ragazzi questo video è terminato Io spero che vi sia piaciuto Se così è stato vi esorto e vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale per seguire altri video di Steppli E niente noi ci vediamo in un prossimo video Vado a sempre per tutto Buone Ciao